E ora per pillole di libri nel Borgo Antico, ascoltiamo l'intervista realizzata a Natale Cassano, autore del libro Inseguire un fantasma. Inseguire un fantasma è il libro scritto da Natale Cassano che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Quindi una situazione misteriosa riaffiora, un passato riaffiora e quindi travolge la vita del protagonista di Giovanni Cosetti. Sì, la vita del protagonista si trasforma piano piano col tempo, ritorna un passato che lui non credeva, che credeva fosse appunto diverso da quello che attualmente è. Tutto quanto si incentra sulla storia di questa madre, questa figura misteriosa di cui all'improvviso Giovanni scopre una nuova verità. E il libro in qualche modo si dipana proprio inseguendo questa verità, cercando di scoprire le tracce di questa madre e di un mistero che si rifà al secondo dopoguerra. E che unisce appunto due periodi, due età molto diverse che piano piano arrivano a confliggere e creano chiaramente anche un dissidio interno nel protagonista. Inseguire un fantasma è il libro edito da Eretica Edizioni di Natale Cassano che ringraziamo ancora una volta per essere stato qui. E ringraziamo anche la rassegna letteraria a libri nel Borgo Antico che si tiene tutti gli anni a Bicelli nell'ultimo weekend di agosto. Appuntamento al prossimo libro. Ok, fermi!